Lido Fiori località marina e frazione di Menfi. Lido Fiori è una piccola località che presenta una struttura molto semplice. Una via principale e due piazzette. La prima e la seconda, che rappresentano gli accessi ufficiali al mare. Ma nella via principale, via dei Dei Pioppi sono presenti altre vie secondarie che consentono l'accesso al mare. Il mare è molto pulito, abbastanza basso il livello del mare. La spiaggia invece presenta un livello di grana media. Ma la caratteristica davvero interessante di Lido Fiori è la presenza di duni e flora associata. Un esempio la presenza del giglio di mare. Nella zona sono state rinvenute anche alcuni ritrovamenti delle guerre passate. Lido Fiori da più di dieci anni come anche Porto Palo presentano la bandiera blu. Da qualche anno l'acqua viene controllata anche nei periodi di maggiore afflusso e l'anno passato i valori di molti batteri erano sotto la soglia. Quindi anche con tante persone il mare risulta essere abbastanza pulito. La costa di Lido Fiori si estende per chilometri e collega sia la zona balneare e saccense, che quella di Selinunte. Infatti risulta suggestivo passeggiare lungo tutta la costa. A trazione vicina, tartarughe.